eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi dopo le patch note rilasciate ieri sera che vi ho riportato proprio in tempo reale della versione 1.40 vi lascio in alta destra vi ho messo anche negli shorts la classe per il soa subverter il nuovo fucile da battaglia veramente fortissimo quindi poi recuperate anche questi altri due video un bel mi piace per questo video dove parleremo dei problemi causati come sempre in una nuova season nella season 2 reloaded poi nei commenti voglio sapere la vostra se avete problemi in più oltre a quelli che riporterò nel video che sono stati ufficializzati così cercherò di riportarli all'attenzione di activision quindi un bel commento qui sotto un bel mi piace ed iscrivetevi se siete nuovi poi come sempre per supportare il canale vi ricordo il la mia collaborazione con eneba quindi ogni volta dovevi comprare un game pass un abbonamento un videogioco nuovo un video del passato utilizzate il primo link in descrizione e ogni volta anche dovete fare un acquisto su amazon andate nel mio canale delle offerte su telegram cliccate sul link qualsiasi poi ci vi si aprirà amazon cercate un prodotto che dovete comprare lo comprate anche in quel modo lo supporterete oppure troverete le offerte già giornaliere con tantissimi sconti e poi oggi alle 14 saremo live piattaforma viola partiamo innanzitutto con un'informazione perché come avete visto ieri nelle patch note che vi ho riportato della versione 1.40 nelle prossime settimane tornerà shika faranno una rotazione infinita di tutte le mappe ritorno in base al tipo di numero di giocatori quindi non è che potremmo scegliere la mappa ritorno bene ieri raven software in merito alle opzioni delle playlist world war ritorno ha dichiarato che sono state progettate così perché mirano a raccogliere dati sulle prestazioni delle varie mappe dedicate quindi secondo la software house questo dovrebbe far sì che le mappe ritorno ruotino in modo coerente attraverso tutte le dimensioni della squadra invece che limitarla quindi l'intenzione di ritrovare tutte le mappe singole ritorno con i vari tipi di squadra non è attualmente previsto faranno rotazioni delle mappe ritorno per i vari tipi di squadre ma ovviamente sarà una rotazione di 15 minuti non potremo andare a scegliere se volemmo giocare soltanto a bondalo solo a shiko soltanto a forza inviterò aggiornati comunque ha detto che prenderanno comunque in seria considerazioni i feedback a riguardo parliamo della patch 1.40 perché ieri ragazzi sono arrivate tantissime segnalazioni tra i vari social che sembrerebbe che alcuni fornitori di cheat sarebbero diventati inattivi dopo l'aggiornamento 1.40 perché ieri c'è stato un aggiornamento molto importante dell'anti cheat di ricocheck di cui praticamente non avevano al momento annunciato nessuna modifica in vista appunto della season 2 reloaded ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è stato cambiato perché nella notte call of duty ha specificato cosa riguarda l'aggiornamento dell'anti cheat allora correzioni per combattere i veicoli volanti e arriveranno altre correzioni molto probabilmente in vista di season 3 poi ci sarà una nuova mitigazione chiamata boom quindi i veicoli che non dovrebbero essere in volo o troppo in volo dovrebbero esplodere in modo causale protezioni migliorate tempi di risposta aumentati per i driver a livello di kernel quindi versione pc ottimizzazione della vicenda di rilevamenti in gioco nelle partite classificate hanno aggiornato il rilevamento di dispositivi hardware di terze parti e hanno bannato 26.000 account ieri sera ha detto il team continua ovviamente il team di sviluppo con nuovi aggiornamenti che continueranno ad arrivare con le prossime stagioni fatemi sapere ragazzi se ieri sera avete notato questi cambiamenti e meno cheat all'interno del gioco così almeno vi tengo aggiornati su questo aspetto che mi chiedete spesso sia sotto youtube che nelle live giornaliere ma parliamo dei problemi che mi avete pubblicato ieri di più sotto appunto i miei social e vi dico anche quelli su cui stanno lavorando allora se ieri non siete riusciti a fare aggiornamenti lo state facendo oggi vi appaiono più di 190 200 gigabyte è un bug annullate l'aggiornamento spegnete la console riavviate rifate ripartire il download perché a molti è causato questo problema che anziché 19 gigabyte ragazzi vi è partito un aggiornamento da oltre 180 200 gigabyte poi hanno detto che stanno lavorando su un problema che causa la visualizzazione involontaria del widget di latenza che viene indicato come nt quindi non definito su questo stanno ancora ci stanno ancora lavorando stanno lavorando su un problema che impedisce lo sblocco dell'accessor e quindi dell'ottica nuova la factory iron sacked per il fucile di precisione l'xrk stalker ed inoltre hanno dichiarato che stanno anche indagando sulle segnalazioni secondo cui un numero limitato di giocatori pc subisce arresti anomali durante l'accesso a menu zombies multigiocatore e partita privata multigiocatore dopo l'aggiornamento della sagione 2 questo ragazzi accadeva ieri intorno alle ore 8 questa mattina mentre stavo preparando il video ho visto che in merito appunto a questo aggiornamento hanno voluto fare un update ed ecco vi dico proprio l'aggiornamento in tempo reale i nostri team continuano a lavorare per risolvere la causa principale di questo problema nel frattempo i giocatori interessati sono incoraggiati a ridurre il valore della dimensione della cache delle texture rallocate nel menu opzioni grafiche come potenziale soluzione alternativa si prega di notare che il valore ideale può variare in base alla macchina potrebbe essere necessario continuare a diminuire il valore finché non si evita l'arresto anomalo questo è proprio un aggiornamento di questa notte delle ultime ore quindi non appena ragazzi avrò aggiornamenti a riguardo avrò novità a riguardo vi farò sapere nei nuovi video informativi che usciranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni così almeno vi tengo aggiornati su tutta la situazione ieri c'è stato anche un aggiornamento a livello di audio quindi vi ricordo di andare a vedere le patch notte in alta a destra versione 1.40 però stamattina già ho ricevuto diversi feedback che sembrerebbe che l'audio non abbia subito cambiamenti la cosa non mi sorprende perché l'abbiamo visto anche nelle stagioni precedenti aggiornamento miglioramento audio e quant'altro e poi non si notano tutte queste cose quindi anche sotto questo aspetto fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti attendo diversi nuovi feedback a riguardo chiudiamo il video informativo con una notizia molto interessante come sapete ieri è stato introdotto il nuovo punto di interesse il vascello di ricerca all'interno di fortune keep praticamente ragazzi ci saranno da ottenere quindi da sbloccare sette queste quindi sette oggetti da dover trovare quindi da completare all'interno della nave e una volta ottenuto questo vi apparirà questa schermata jackie pass times praticamente uno dei più esperti giocatori in merito ad easter egg lo ha già praticamente sbloccato e come potete vedere fortune keep mastery completa tutte quanto le quest nascoste delle challenge dentro alla nave di fortune keep in questo modo ragazzi otterrete una mimetico una ricompensa uno si aspettava qualcosa di più figo da parte dell'air moon studio se come potete vedere guardate le secret challenge vi dice praticamente nuova arma nuovo ciondolo ed ecco qui la ricompensa una variante arma e quindi un meglio una proprio un una blueprint del soa subvertel versione regal con questa mimetica che purtroppo non è animata è soltanto in versione oro nella parte dell'accessoristica e dell'ottica e marrone nella parte centrale quindi una versione nuova per quanto riguarda il nuovo fucile da battaglia fortissimo trovate negli shorts nel mio ultimo shorts già la classe da provare assolutamente fatemi sapere se già vi siete messi vi siete già messi sotto per sbloccare questa nuova variante arma ottenibile solo e soltanto sulla nave introdotta ieri su fortune keep e con questo chiudiamo il nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty mi raccomando supportate un bel mi piace iscrivetevi se siete nuovi aspetto oggi il live alle 14 e domani per un nuovo video